Calabresi confusi, Baggio per Diana che li disorienta ancora di più. Vargas e Taibino fermano così e Cesare decide per il calcio di rigore. Dal dischetto Baggio si lascia sommere. E Baggio può porre il sigillo su una prova strepitosa alla mezz'ora 3 a 0. Sei meritati applausi. Il Brescia torna a vincere dopo quasi due mesi, ritrova la zona salvezza. Tare trova il suo secondo centro stagionale.